Cerchio e seno Dario Ragusa Il dottor Dario Ragusa, coordinatore del cerchio e seno, convinto da sempre che la medianità sia un mosaico evolutivo globale, come ripete il cerchio medianico K, ripropone questi concetti espressi dal cerchio Firenze 77 e dal cerchio Ifioro. Vorrei darvi piccoli insegnamenti sulle sedute medianiche. Innanzitutto tre sono le cause che decidono l'andamento della seduta. Prima, lo strumento usato e la sua evoluzione. Tutti hanno la medianità, ma il medium è colui che questa forza l'ha sviluppata ed è in grado di esplicarla perché, figli diletti, pochi sono degni di fare ciò. Seconda, gli elementi della catena. Questi devono essere consci di ciò che fanno perché qua non siamo dall'indovina e questo non è un ufficio informazioni. La medianità serve per imparare come un libro di scuola e come tale non si può e non si deve usarla come divertimento. Siano i partecipanti armoniosamente uniti perché tali devono essere le forze sprigionate da questi. Terza, l'ambiente. Questo deve essere silenzioso e fresco poiché deve agevolare la concentrazione. Ricordatevi che il freddo è un grande reattivo, stimola le forze psichiche e in tal maniera agevola.